Commissione per il Ponte, prima seduta, è già scricchiolante. La Commissione ha il compito di fare luce sugli aspetti legati ai lavori e l'ordine del giorno della sua prima convocazione prevede la nomina del Presidente, appartenente alle opposizioni, le quali fanno però già sapere, attraverso una nota scritta, che rinunciano a tale ruolo. La Commissione temporanea, trasparenza e garanzia spiegano arriva tardiva e priva di veri poteri. Non ci stanno, scrivono, ad essere strumentalizzati e usati come paravento e la vita del Ponte continua a farsi sempre più dura.